HAKUNA MATATA RAGAZZI Ciao HAKUNA MATATA RAGAZZI Oggi finalmente sbustiamo un kit pre-release di Ossidane Infocata più tre bustine random e vedremo cosa si trova e soprattutto chi troverà cosa ecco come sempre da cosa partiamo? prima volevo far vedere la promozionale è un... per fare un meraviglioso è bellissimo è meraviglioso è un cleffro scusate è meravigliosissimo stupendo poi ci sono le solite quattro bustine i regolamenti e tutto del resto che non ci interessa sono sette bustine in tutto cosa facciamo? è una la apriamo insieme quindi una te parti tu non conosciamo niente o poco però intrecchia da uno puoi anche non farlo e fa vedere ai nostri amici in telecamera chi c'è caldo oggi ragazzi lo so anch'io bello 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 ok chi arba come direbbero amici di chi ne? sei? signorina ti dico la nuda e cruda verità come lo feci col cacciatore non me ne frega un cazzo no allora partiamo credo che sono quello più corto ed è quello più lontano ah ok no perché regà mi aveva preso un attimo una botta di spavento ho detto come cazzo è possibile ma che dire vi devo dire ti devo dire vi devo dire ti devo dire una bella lucertola seriamente? allora mi disomiglia non è una lucertola è un po' tipo l'arviter non è una lucertola non siamo andati fondamentalmente male però poteva andare fondamentalmente meglio sì o anche peggio quindi signori adesso mi vedete così domani non sarà già più così o sto pomeriggio non sarà più così perché io sono infermabile io sono ciccio che mi ha rottato grazie per averci seguito e alla prossima ciao ciao